Buongiorno Buongiorno Stiamo arrivando in studio adesso, hai capito? Cioè, è qualcosa di troppo lungo da spiegare per capire Cosa che tu neanche puoi concepire Non lo sai Cioè, è come se facessi freestyle Dai, il Jay sono qui con i miei e tu magari già lo sai Bye bye WESSA